Presidente, mancano pochi mesi e aprirà i cancelli Made Expo 2013, quali novità presenterete? Noi come federazione è presentare un Made Expo molto innovativo per quanto riguarda soprattutto il nuovo rapporto che sta nascendo all'interno delle feder costruzioni dove la filiera crede che anche quest'anno il Made Expo possa dare un segnale forte in innovazione e soprattutto con delle proposte che vadano della direzione della copertura del territorio e quindi del sociale. Quindi parliamo di scuole, parliamo di suolo, parliamo di ospedali, parliamo di carcere, per cui qui abbiamo bisogno che parta immediatamente questi tipi di interventi per far ripartire l'edilizia. E noi crediamo come distribuzione di materiali edili sul territorio nazionale di poter portare il nostro contributo con un grande convegno che noi andremo a celebrare sempre in questa grande manifestazione affinché possiamo insieme costruire un momento molto difficile del paese ma se abbiamo la volontà di giocare la carta tutti insieme come dice il nostro presidente Squinzi e il presidente Carlo Sangalli di poter insieme fare squadra per superare questo momento drammatico del paese.